Voglio andare subito al dunque, al punto, vi risparmio quindi i convenevoli, perché questo qui è un video molto importante da tifoso laziale e ci tengo particolarmente. Allora, vi mostrerò due screenshot che raffigurano dei post scritti da una pagina Facebook che conta circa 38.000 followers laziali, 38.000 followers della Lazio, ok? Primo screenshot che raffigura un post scritto da questa pagina dopo Lazio-Bayern-Monaco 1-4. Volevo dire a quelli che oggi stavano a Formello che invece di incitare la squadra, che non serve a un cazzo, andassero a protestare contro sta società di merda che ci ritroviamo. Secondo screenshot che invece raffigura un post scritto dopo Bologna-Lazio 2-0. Vorrei conoscere uno ad uno quelli di una settimana fa a Formello a incitare sti ingrati, invece di andare a protestare contro sta società di merda. Allora, innanzitutto ne hai conosciuto uno, eccomi qua. Io sono andato a incitare la squadra a Formello prima di Lazio-Bayern-Monaco, così come ci sono andato prima di Lazio-Roma. E ti ricordo che la Lazio ha vinto il derby 3-0. Vi sembra una cosa normale? Cioè, voi vi rendete conto a che punto siamo arrivati? Vi rendete conto? Cioè, vi rendete conto che cosa è diventato il tifoso laziale? Poi vabbè, questi qui non sono veri tifosi, e quindi io da questo discorso tolgo tutti i veri tifosi. Tutti quelli che vanno allo stadio ogni domenica, che andavano allo stadio ogni domenica a supportare la Lazio, e tutti quelli che prendono parte alle trasferte. Tutti quelli che stavano a Formello prima di Lazio-Bayern, prima di Inter-Lazio, prima di Lazio-Roma, io tolgo da questo discorso tutti questi tifosi, ok? Vi rendete conto che cosa è diventato il tifoso della Lazio? Nei libri di storia scriveranno del tifoso della Lazio che dal 2005 al 2021, o 2000X, dipende quanto durerà ancora questa storia, il tifoso della Lazio ha subito una netta involuzione. Il tifoso della Lazio si è dimenticato in questi anni, anno dopo anno, si è dimenticato del valore dei colori, del valore della maglia, del valore del simbolo. Per il tifoso della Lazio in questi anni è esistita soltanto la società. Questo scriveranno nei libri di storia, riporteranno queste frasi qui, queste frasi qui. Volevo dire a quelli che oggi stavano a Formello, invece di incitare la squadra, andassero a protestare contro la società, invece di incitare la squadra a Formello, prima di un ottavo di finale di Champions League storico contro il Bayern Monaco. Vi rendete conto che una pagina Facebook seguita, seguita, che critica costantemente la società, la critica a prescindere, anche prima di vedere gli acquisti in campo, una pagina Facebook seguita da 38.000 laziali, 38.000 laziali, sprona gli altri tifosi, sprona questi 38.000 laziali a non incitare la squadra, no, a protestare contro la società. Gli sprona quindi a non tifare, sprona i tifosi a non tifare, perché questo è. Ragazzi, nel mondo Lazio, non so se ve ne siete resi conto, c'è una guerra interna tra tifosi, che non c'è nelle altre tifoserie. Non c'è nelle altre tifoserie. Perché, vi faccio un esempio, nella tifosiera dell'Inter, c'è chi fino a qualche mese fa pensava che i problemi dell'Inter riguardassero Conte, e chi invece pensava che i problemi dell'Inter riguardassero invece la Rosa. Questo, soltanto questo, si limitava a questo, si limitava. Così come nelle altre tifoserie, invece, qui c'è una vera e propria guerra interna, tra chi, che non c'entra assolutamente nulla con la Lazio, non c'entra niente con la maglia, non c'entra niente col colori, non c'entra niente col simbolo, no, tra chi elogia la società e chi critica la società. Questa è la guerra interna che c'è. Chi pensa che sia inutile incitare la squadra, che sia inutile tifare la squadra. La Lazio è molto altro, ragazzi. C'è la Lazio, la Lazio è la maglia bianco e celeste, la Lazio è l'Aquila, la Lazio è la storia. Questo è. Io vi invito sinceramente a meditare, a meditare, ok? A meditare, perché come questo post su Facebook, che vi ho fatto vedere come esempio, ce ne sono molti altri, questo qui rappresenta il pensiero di moltissimi altri tifosi della Lazio, e magari anche quelle stesse 38.000 persone che seguono la pagina, per esempio, per esempio, questo non ve lo so dire con certezza, però svegliamoci, svegliamoci, davvero, perché il tifoso della Lazio ha molto di più. Ditemi che cosa ne pensate nei commenti. E forza Lazio, sempre e per sempre. Ciao.